Croissant integrale e vegan senza glutine. Qualche giorno fa ho pubblicato sui miei profili il risultato di questo fantastico croissant e mi avete chiesto il procedimento. Benché io abbia già una ricetta di croissant con la stessa marca sempre sul mio canale, più sotto vi metterò il link alla ricetta, ho deciso di pubblicare anche questo video perché a differenza del video precedente in questa ricetta ho utilizzato la margarina del supermercato, quella in panetto, quello sodo, per cui siccome una delle problematiche maggiori che mi avevate manifestato era quello di riuscire a rintracciare, a comprare la margarina da sfogliatura, ho deciso di fare dei tentativi e questo è il risultato di cui sono davvero molto contenta, per cui ho deciso di condividerlo con voi. Questa volta ho usato l'impasto sempre della stessa azienda, più sotto vi metto la descrizione, ho usato l'impasto per sfoglia integrale che era quello che mi mancava perché sul blog avevo già preparato la sfoglia classica e anche la sfoglia ai cereali, potete dargli un'occhiata se volete, vi mettono in descrizione sempre il link alle ricette. Il procedimento normalmente io lo facevo con la planetaria, però vi sto mostrando qui come si possa fare tranquillamente tutto a mano, senza bisogno di strumentazioni particolari. L'unica accortezza che dovete avere è di utilizzare nella fase dell'impasto l'acqua molto molto fredda, poi l'impasto un pochettino maneggiandolo con le mani appunto si riscalderà, però non abbastanza da compromettere il risultato. Una volta fatto un impasto grossolano nella ciotola io mi sposto sulla spianatoia, di solito uso carta da forno, un silpat o come in questo caso un foglio di cottura e continuo ad impastare. Quando vedo che l'impasto diventa molto appiccicoso utilizzo per lo spolvero amido di riso, scusate, amido di riso. In passato utilizzavo l'amido di mais, ma mi sono resa conto che l'amido di riso è anche meglio rispetto all'amido di mais e meglio ancora della fecola. Però bisogna sempre utilizzarne il minimo indispensabile, senza abbondare, perché poi comunque quello che mettiamo in eccesso va tolto quando si fa la fase della sfogliatura. L'intera preparazione in realtà è durata circa 30 minuti, comunque l'impasto è davvero molto veloce. Io qua velocizzo un pochettino perché il movimento è un pochettino ripetitivo. Una volta fatto l'impasto e ottenuto un impasto liscio lo appiattisco leggermente e lo metto da parte per poi occuparmi della margarina. Vedete che consistenza deve avere, tipo plastiline, un panetto piuttosto sodo ma che si stende a meraviglia e non si spacca. Quindi lo metto da parte. Adesso vi mostro la margarina. Considerate che questa è un'altra prova che io ho fatto, una prova successiva. La margarina l'avevo già utilizzata. La margarina con la quale io mi trovo bene è questa che adesso vi mostro. Non ho provato con tutte le margarina che ci sono ovviamente in commercio perché sarebbe impossibile. Quello che vi posso dire è che deve essere una margarina in panetto sodo. Cioè quando voi toccate il panetto deve essere rigido come quello del burro, non come quello della margarina spalmabile. Ecco questa è la marca di margarina che io ho utilizzato. Avevo già preso questo panetto da 250 grammi che era largo il doppio e l'ho tagliato a metà. E ho ottenuto uno strato di circa un centimetro e mezzo. È un po' troppo spesso, quasi due centimetri. Per cui l'ho messo sempre nella carta della margarina e l'ho appiattito con il mattarello. Fino a quando non ho ottenuto uno strato, diciamo un blocco, di circa un centimetro. Ci si può spingere anche a un centimetro e due, però è più facile misurare un centimetro per praticità perché non dobbiamo complicarci la vita. Altrimenti ci passa il piacere di preparare questi prodotti. Quindi quando ho ottenuto questo panetto da un centimetro l'ho incassato nel mio pastello, nel mio impasto. Lo appiattisco un altro pochettino. Io di solito lo incasto come vi faccio vedere, ci sono vari modi per farlo, però in questo modo si sovrappone meno impasto possibile. Lo trovo più pratico, più facile. L'unica accortezza è di non eccedere con l'amido di riso perché come vedrete non permette alla pasta di sigillarsi. Quindi ne dobbiamo mettere proprio pochino. Lo aggiustiamo con le mani così abbiamo una dimensione doppia rispetto alla margarina e lo incasso in questa maniera. Poi l'altra accortezza che bisogna avere è quello di picchiettare l'impasto con il mattarello. Non di partire subito a stenderlo, ma sempre di picchiettarlo. E sempre di avere la spianatoia, comunque il piano di lavoro, infarinato. Non si deve incollare. Quindi vedete si inizia picchiettando così, piano piano. Con un po' di pazienza. In maniera tale che la margarina si stenda sulla maggiore superficie possibile, perché se noi adesso lo stendiamo spacchiamo la margarina in due e comunque la distribuiamo male nell'impasto. Picchiettandola così, la margarina si allarga insieme all'impasto e otterremo una sfoglia perfetta. Ci vuole un po' di pazienza. Io vi sto facendo vedere il procedimento il più integralmente possibile, anche se mi rendo conto che avrei potuto tagliare parecchi pezzi perché sono ripetitivi. Io ho preferito lasciare un video lungo piuttosto che essere un po' troppo striminzita nelle spiegazioni. Però vi ripeto, una volta capito dove sta il segreto tra virgolette di questo croissant con questo mix, non penso che avrete difficoltà. Almeno per me è stato così. Ne ho avute parecchie di difficoltà, ho fatto tante prove, però alla fine ho capito dove stava l'inghippo. Che è sempre solo la lievitazione, oltre che evitare di lavorare troppo eccessivamente l'impasto. Quindi prima, dopo aver incassato la margarina, cerco di stenderla in un rettangolo lungo. Lo spessore ideale, sempre quando si danno le pieghe, è di 7 mm. Dio, se scendete a 6 o se salite leggermente a 8 non è un grossissimo problema in questa fase, però idealmente sono 7 mm. Ora tolgo l'eccesso di amido e do la prima piega a 3. Questa si chiama piega a 3, o piega semplice. Appiattisco leggermente, quindi la parte la porto verso il centro, l'altra la ribalto di sopra, ho dato la prima piega. Giro l'impasto di 90 gradi e faccio lo stesso tipo di lavoro. Ora, quando si fanno questo tipo di lavori con gli impasti con glutine, girare il panetto di 90 gradi, serve a far sì che il glutine si sviluppi regolarmente da tutti i lati, perché il glutine è come un elastico. Quindi lo si fa per questo scopo. Nel nostro caso, dove il glutine non c'è, non so fino a che punto serva, però ormai sono abituato a fare così, siamo abituati a fare così e continuiamo a fare così tanto male, non gli fa. Sempre con delicatezza iniziamo prima picchiettando, poi allunghiamo questo rettangolo, ogni tanto lo giriamo perché si tende a non avere la stessa pressione dall'inizio alla fine, quindi girandolo cerchiamo di avere uno strato il più omogeneo possibile. Sempre sui 7 mm, togliamo l'eccesso di amido di riso, ripieghiamo nuovamente e abbiamo dato il secondo giro. La margarina ci permette di non dare il riposo in frigorifero, il che ci fa veramente fare questo lavoro in mezz'ora al massimo, proprio al massimo. Io ho perso molto più tempo perché sto facendo il video, ma in 20 minuti sarebbe stato pronto. Adesso ci impegniamo per dare il terzo e ultimo giro, dopodiché passeremo alla stesura e alla formatura dei cornetti, dei croissants. Il cornetto è quello all'italiana con l'uovo e il croissant è quello francese senza uovo. Normalmente, almeno per quanto ne so io, è così. Quindi cerchiamo di lavorare sempre con uno strato di pasta il più omogeneo possibile. Noi dobbiamo avere meno scarto possibile, sia per i costi della nostra lavorazione, sia per una questione di opportunità, perché più scarti abbiamo, più li dobbiamo usare in maniera alternativa, cioè meno cornetti abbiamo. Con questa porzione ne otteniamo 4, io faccio sempre porzioni piccole. Questo è l'ultimo giro che abbiamo dato, adesso passiamo alla stesura dell'impasto. Dobbiamo ottenere un rettangolo di circa 19-20 cm e lungo 30 cm circa, perché poi rimuovendo i bordi frastagliati, comunque le imperfezioni nel bordo, lo scopo è ottenere un rettangolo di circa 18 x 28 di lunghezza. In questa fase possiamo stendere in ogni direzione, cercando di non farlo deformare troppo, quindi di ottenere sempre questo rettangolo il più regolare possibile. Si parte sempre picchiettando, quindi sempre spessore di 7 mm circa, regolarizziamo il più possibile i bordi con un po' di pazienza. Quindi una volta che io ho ottenuto una larghezza di 20 cm, inizio a stenderlo in lunghezza. Devo ottenere la lunghezza di 30 cm circa. Questo mi garantisce che lo spessore orientativamente è di 7 mm. Tanto poi vedremo che lo assottiglio leggermente quando poi faccio i croissants. Io questa preparazione ve l'ho lasciata integralmente, così vi rendete conto dei movimenti che ho fatto, di come va trattato questo impasto. Anche se, ripeto, alla fine i movimenti sono sempre gli stessi, il procedimento è sempre quello. Allora, Grazie. Come misure ci siamo quasi, aggiusto un altro pochettino e poi rifilo il bordo. Il bordo va rifilato sempre perché, a parte essere frastagliato, è la parte in cui è probabile che ci sia un po' meno di margarina. La margarina è distribuita meno uniformemente, però noi dobbiamo togliere il meno possibile. Questi ritagli li potete sovrapporre, stendere e fare magari un mini saccottino, oppure li potete ritagliare e cuocere così come sono. Alla fine sono buoni di gusto, ecco. Magari non potete farci granché, ma è sempre meglio che buttare l'impasto. Noi dobbiamo ottenere meno scarti possibile. Puliamo sempre il coltello perché tende ad appiccicare, spolveriamolo sempre con amido di riso. Potete fare lo stesso lavoro con una rotella per pizza, sempre spolverandola con amido di riso. Ok, il nostro rettangolo l'abbiamo ottenuto. Adesso misuriamolo per sicurezza. Sono 28 per 18. Noi questi 18 cm li dobbiamo tagliare a metà, quindi avremo dei cornetti larghi 9 cm e lunghi 28 cm. Quindi prima ci ricaviamo due rettangoli più stretti, quindi di 9 cm di larghezza e 28 cm di lunghezza. e poi tagliamo in due questi rettangoli. Dobbiamo ottenere due croissants. Il metodo più veloce, mettiamo il righello, o comunque mettiamo qualche cosa che ci faccia il segnale, lo tagliamo trasversalmente. Abbiamo ottenuto quattro croissants. Non saranno assolutamente identici, ma non importa. Tanto è una produzione casalinga, non serve che siamo precisissimi, non dobbiamo venderli. Adesso dobbiamo rimuovere l'eccesso di amido, se abbiamo un pennellino è anche più comodo. Pratichiamo un piccolo taglio di 1-1,5 cm alla base e lo arrotoliamo. Non dobbiamo schiacciarlo, dobbiamo solo allargare questa parte della base e arrotolarlo senza schiacciare. Io non lo inumidisco. Una volta arrivata a metà, cerco di appiattire leggermente la parte rimanente e continuo ad arrotolare. Per poi fissare la punta, proprio così la faccio incollare alla base, se no si stacca. E continuo così per tutti i cornetti. Abitualmente, da quando faccio questi croissants, li ho sempre messi a lievitare e poi a cuocere su delle grigliette forate. Questo mi permette, in cottura, di far colare l'eventuale eccesso di margarina e comunque di materia grassa che esce e non farli inzuppare. Se l'avete è meglio, se non l'avete pazienza, li cuocete su una teglia normale. L'importante è che quando li mettiamo a lievitare debbano essere molto distanziati tra di loro perché lo scopo è farli triplicare, non raddoppiare. L'errore è quando raddoppiano, invece devono triplicare anche se vi sembreranno belli lievitati, non importa. E l'altro segreto fondamentale è un ambiente umido. Quindi dobbiamo mettere le tegliette nel forno con una casseruola di acqua bollente in maniera tale che l'eccesso di vapore ne agevoli la lievitazione. lievitazione in un'ora e circa, un'ora, un'ora e dieci minuti, saranno triplicati di volume. Questi sono i croissants lievitati. Ve li faccio vedere. Non vanno pennellati perché il mix è bilanciato in maniera perfetta per poi dare un perfetto croissant colorito. Ho scaldato il forno in modalità ventilata a 200 gradi e l'ho infornato per 5 minuti e poi 30-35 minuti a 180 gradi in modalità ventilata. E questi sono i croissants. Sono spettacolari. Vedete, li ho poggiati su una teglia con un'ulteriore griglia sotto così cola l'eccesso. Ne è colato veramente poco. Adesso vi faccio vedere la teglia quanta margarina aveva. E su queste grigliette tendono ad attaccarsi leggermente però basta schiacciarli da sotto e loro si staccano senza problemi. Sono magnifici, perfettamente croccanti e asciutti. Io normalmente li faccio raffreddare, non li faccio mai, non li mangio mai caldi. Vedete? Questo è un velo di margarina che è colata. Io li mangio normalmente freddi, però in questo caso li ho tagliati mentre erano appena appena tiepidi. E sono perfetti. Adesso vi faccio sentire il rumore del taglio. Vedete la sfogliatura? Sono perfetti di colore, perfetti di livitazione. pesano quasi tutti tra i 86 e i 92 grammi. Li ho pesati uno per uno, così ve lo potevo dire. Vedete? Molto bello. Adesso vi faccio vedere l'interno. Il procedimento è lo stesso che usiate qualunque miscela sfoglia, che sia integrale, classica o ai cereali. tagliamolo. Ed eccolo qua, in tutto il suo splendore. Bene, la ricetta è finita. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche. Ciao!